Papapapaa Si la intrasento Papapapapaa Bom Bom Papapapaa Papapapaa Se vuoi partecipare alla sigla in diretta puoi fare Papapapapapa Papapapapa Benvenuti Ben ritrovati amici qua a Cineforum con il nostro ospite di oggi Jacopino annuncialo tu Matioschi Ciao Giulio per l'amiche più intime ma perché la sigla della Universal tra tutte? è la prima che ci è venuta in mente da canticchiare quando penso alla sigla diciamo una sigla di intro da casa produzione mi viene in mente sempre l'Universo non la 20th Century Fox? no è quella un po' lunga però non so però no no mi piace di più l'Universal sai perché? perché mi piace di più il mondo con la scrittura di unico una volta c'era solo quello non c'era la fanfara sotto iniziava col mondo che girava solo che se mostriamo il video forse riesce ad essere un problema per Twitch quello non possiamo invece così abbiamo un remake che tutto sommato si può mettere comunque di cosa parliamo oggi? di cosa parliamo? oggi parliamo di una serie televisiva chi cui io sono praticamente so tutto vita, morte, miracoli questa serie televisiva ma non dirò niente per non far sfigurare il nostro ospite lui non l'ha vista non so niente quasi niente è il nostro garante anti-spoiler nella fase iniziale poi si rovinerà tutto esatto in realtà io ho dato l'ok per lo spoiler perché tanto so benissimo che non la guarderò sta cavolo di serie e quindi e fai male però ecco molto male ma sono anche qua per farmi infliggere pene per non averla vista due accaniti spettatori come voi una serie tra l'altro del 2004 io avevo quattro anni perché sono 2000 non lo voglio dire quanti anni avevamo io e Mattia che schifo dai come si fa ad avere quattro anni nel 2004 ma ti pare possibile? che imbarazzo che imbarazzo ritirati due anni dopo usciva Ben Tennant quella l'ho vista dall'inizio io ne avevo 16 se ho fatto bene i calcoli mentali sì 2004 16 voi non siete coetanei siamo coetanei 88? allora sì ok perfetto io comunque non lo volevo dire volevo evitare questa cosa ci roviniamo la piazza sputtaniamo così non siete delle signore quindi cos'è? non siete delle signore quindi si può dire tutto dai vabbè capito ma la parità dei sessi dove è finita scusa se vale per le signore vale anche per le signore sono d'accordo vero? non mettermi contro l'ospito no ma qui siamo ancora nella fase in cui comunque spacciarsi per maturi fa la differenza poi aspettiamo i 40 io mi raserò la barba e dirò ma no sono un 20 però vi dirò mi è andato più volte del 25-27 è la barba è la barba esatto infatti io mi camufuto tendo a rasarmi di più ultimamente per evitare questo comunque serie 2004-2010 scritta ideata da JJ Abrams ma poi scritta da Damon Lindelof e Carton Hughes che vuoi parlarci un po' di questi scrittori di questi due scapestrati esatto che tu li conosci un po' meglio ma non è che avessero fatto granché prima Lindelof no di sicuro perché io ricordo di aver letto in una piccolissima enciclopedia che avevano rilasciato in occasione della prima stagione che Abrams lo vide arrivare al colloquio con la maglietta di Star Wars e pensò ok è quello giusto visto quello che è successo dopo Abrams e Star Wars già c'erano oddio di anticamere di futuri ho letto ho letto leggendo una roba però posso dire che Abrams ha fatto una secondo me un film molto carino molto bello adesso non voglio non voglio dire criticare come regista è ottimo di roba bella ne ha fatto ogni tanto sì 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 e quindi non so se avessi avuto esperienza progressa a Gigi Abrams sì ha fatto Armageddon nel 98 come script sì ma chi dei due Jeffrey Jack of Abrams ah non lo sapevo adesso ce l'ho qua ma meno di scritto e prodotto sì scritto e prodotto Armageddon che poi è diretto da Michael Bay però Star Trek e io non l'ho mai visto però a livello seriale aveva fatto Alias che è un'altra serie misteri molto lostiana molto vero anche se parte da premesse un po' più alla James Bond è di prima cioè 2002 se non sbaglio 2003 non ricordo la data ma sicuramente è antecedente Alias 2001-2006 2001-2006 ok mi piace fare questa cosa che adesso snoccelo e poi se non sbaglio poi ha prodotto Fringe sì esatto corretto perché era quel periodo nella mia vita in cui mia madre iniziava a farmi vedere le serie di J.J. Abrams perché mi piaceva come scriveva le serie quindi ho visto Lost poi Alias aveva una grande credibilità adesso va di modo a dire che sia un peracottaro ma non è propriamente così ma scusa ma quindi è di famiglia questa cosa che ti piacciono le serie tv c'è che insomma c'è una passione per allora credo che per mia madre sia nata con i Mule la passione per le serie tv con i Mule con quello per sgaricare ma vabbè ma no però poi ne parleremo forse c'è a casa un hard disk pieno di roba non so dove è finito questo hard disk non voglio saperlo adesso e tu ti ricordi tutti gli abbonamenti non sei così tanto giovane no i Mule tu l'hai riuscito a beccare regia tu sei riuscito non l'ho mai usato però 4 anni mentre ha visto Lost l'ho vista che era 12-13 anni alle medie infatti immagino tu non abbia vissuto la prima messa in onda no no assolutamente era tutto sull'hard disk eccellente questo hard disk magico che era chiuso in una cassaforte in su da qualche parte nella mansarda di Jacopino ma da cosa nasce l'idea di Lost perché l'idea nasce proprio da G.J. Abrams che in realtà neanche è nata da un produttore di cui non ricordo il nome perdonatemi adesso lo ritrovo della ABC che aveva l'idea facciamo una serie su un'isola deserta con di naufraghi ah è vero l'idea ai direttori del network sembrò talmente fessa che lo presero e lo licenziarono e poi lo sunsero per Temptation Island ma no è rimasta traccia di lui nella serie perché la voce previously on Lost è la sua vero Damond Lindelof no 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 dopo di che Abrams prese l'idea introdusse la componente misteriosa però in maniera molto vaga poi si rivolse a questi altri due zozzoni non è vero li vediamo bene Liot Brown Lloyd Brown ci siamo si rivolse a Lindelof e chiuse lì prese forma un po' la mitologia quanto meno della prima stagione e neanche tutta perché Abrams ha sempre dichiarato ad esempio di non sapere bene cosa ci fosse dentro poi ne parleremo quella cosa chi deve capire ha capito io infatti non ho capito ragazzi non avete capito niente lì si è arrivato finale no no ma abbiamo detto prima parte senza spoiler diciamo che non era il corrente della risoluzione dei vari misteri proposti lui è imbastito l'inizio e poi si è un po' lavato le mani non so perché in Italia è ancora oggi conosciuta come la serie di Gigi Abrams ma lui ha diretto i primi due episodi che formano il pilota ha diretto la prima puntata della terza stagione e poi basta cioè è rimasto lì come produttore nel senso che la casa di produzione Bad Robot realizzava il prodotto ma non si è occupato di scriverla beh però è uno dei primi nomi che appaiono nei titoli di testa poi è più famoso Gigi Abrams di Lindelof ma se tu vedi gli showrunner e chi scrive gli episodi sono Lindelof e poi tutto un altro giro di autori che negli anni successivi si sono occupati di altre serie e dicevi infatti ha scritto il primo i due piloti che poi formano un pilota dipende poi delle piattaforme streaming perché e ormai sono divisi ok adesso sono divisi è pilota parte 1 parte 2 però all'epoca andarono in onda la stessa sera e lo ricordo anche in Italia sulla Fox la stessa sera tutte e due cos'è due da 20 minuti? no 40 due da 40 praticamente un film ha messo insieme un film infatti sì 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 ma infatti c'è proprio la struttura ma anche come finisce non è neanche uno di quei finali super aperti perché poi anche gli episodi successivi iniziano a trattare sotto trami un po' diversi beh insomma dai sì no c'è un certo cliffhangerino quel cliffhanger sì vero però ammazza diciamo che si risolve oddio non si risolve nulla non si risolve nulla veramente no 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 ma tu devi mettere in conto che inizi la prima puntata e si chiude con l'ultima puntata in mezzo non si risolve niente ah no questo me lo ricordo perché io qualche puntata l'ho vista trama orizzontalissima io qualche puntata l'ho vista non è uno di quei prodotti a parte che adesso con le piattaforme streaming non lo fa nessuno ma non era una di quelle serie che potevi capitare di avvistare facendo zapping ma manco per sbaglio e mi inserisco da qui e capisco tutto no non si può fare no va bene comunque continuo a essere convinto che non guarderò questa serie quindi no problem con lo spoiler che è anche uno dei fattori che scoraggia molte persone poi a guardarla perché sono sei stagioni venti circa episodi a stagione a stagione beh sono tanti ebbè ma soprattutto il fatto che devi comunque stare lì attento format vecchio stile adesso non li fanno più così no in realtà alcune sì ma sono più che altro procedurali tipo serie di indagini criminal minds sappiate che l'anno scorso la serie più vista sulle piattaforme streaming è criminal minds voi direte come un'altra delle serie maestre di mia madre è così se le ha viste a tutto alla fine noi siamo convinti ah no gli original netflix stranger things in realtà quelli che comandano sono i procedurali negli ultimi mesi mia madre se le ha rivista vista rivista poi aveva mollato a un certo punto tutta non so quanto ci ha messo perché sono tipo 11 stagioni alla fine buona santa ma quello poi quello poi è un formato ancora più tradizionale c'è lì ogni episodio è più o meno a sé stante esatto poi quando l'ha finita è rimasta più o meno in lutto ma adesso fanno revival fanno revival sì è vero ma voi vi stupite ma scusate se pensate che Don Matteo c'è ancora un sacco di seguito infatti 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 non c'è niente però almeno gli sceneggiatori di Criminal Minds ci provano a scrivere che Don Matteo per quello che è poi tra l'altro adesso l'hanno cambiato adesso è pure cambiato sì durerà una stagione basta non ce la fa ma ritorniamo ma ritorniamo all'ostra non ci perdiamo Don Matteo vedi che prende secondo me è la cultura italiana che poi ti tira dentro c'è poco da fare sì sì allora volevo passare prima a una parte più personale cioè magari delle esperienze sia della prima visione che poi dei vari rewatch negli anni cosa ha lasciato questa serie cosa continua a suscitare guardandola beh credo abbia cambiato un po' la mia vita perché mi sono laureato con una tesi su Lost quindi non ci fosse stata avrei dovuto inventarmi qualcos'altro immagino ma io l'avevo vista un po' per caso Sky era arrivato da poco a casa mia non che si fosse presentato l'addetto capito e arrivava a casa la rivista mensile con l'intera programmazione di Sky o del di Sky quindi c'era anche un po' la voglia di approfittare dell'innovazione tecnologica no? e ricordo questo paginone con la pubblicità di Lost quell'immagine lì e una grande fanfara ad accompagnarla la serie che ha sconvolto gli spettatori americani perché ovviamente ha spaventato Steven Spino no no perché ovviamente arrivava in Italia sul canale Fox con un certo ritardo e allora proviamo a vederlo prime due puntate molto interessanti tra l'altro c'era l'interprete di Mary in Le Signore degli Anelli che un po' faceva anche da gancio per me che ero fissatissimo c'era un attore di Matrix quindi un po' di volti noti anche se non notissimi quindi prime due puntate ok molto interessanti terza mica male quarta innamorato perso inevitabilmente dopo quattro puntate poi ne parliamo della quarta e da lì in avanti ho detto ok la devo vedere tutta cascasse al mondo la devo vedere tutta e più andava avanti più era meglio finisce la prima stagione con un cliffhanger terribile in senso buono e cioè parliamo appassionando parliamo della non me la spoilerate più la voglio vedere parliamo della preistoria 2004 nel senso che finiva e ti rimaneva la domanda e quindi andranno avanti non c'era internet c'era ovviamente ma tutti questi siti con informazioni che basta che cerchissi stagione 2 e allora un po' di dubbio dopo di che arrivano le notizie si si in America è iniziata e frequentavo il liceo e avevo spacciato i dvd a umma umma della prima stagione nel senso che scaricavo anche business scaricavo le puntate e non le facevo pagare non le facevo pagare perché 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 io avevo bisogno di parlarne con qualcuno non era ancora notissima in Italia e io andavo dei miei amici non ho su un'isola deserta e tutti che sarà mai davo il dvd no 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 il prossimo lo prossimo e uno di questi compagni timidamente mi dice ma la seconda stagione iniziata in America si trovano le puntate su internet le prime tre o quattro e lì e lì benda da pirata pappagallo sulla spalla per scaricarne una un'intera giornata visto che la connessione era quella che era e lì ed io ho scoperto anche la fruizione in originale delle serie c'è la prima cosa che ho visto in originale in lingua originale sottotitolata è stata Lost ed è un'altra usanza che non ho più abbandonato quindi a proposito di sconvolgimenti di vita io se posso vedere qualcosa in originale la guardo bene oh questo mi fa molto piacere non mi ritrovo da solo perché io copino guardo le robe doppiate no poi al cinema no no diciamole queste cose io sono ancora abituato al doppiaggio ma conosco anche tanti doppiatori e forse proprio per quello ormai riconosco le voci quindi va di merda quindi se sono al cinema lo guardo doppiato ma se sono a casa anche con la chiavica della casa di carta in spagnolo anche io lo visse in spagnolo quella lì cioè poi l'ho mollata perché non ce l'ho fatta però in spagnolo vogliamo dire non vogliamo dilogare Dark l'ho vista in tedesco che è una roba però una roba in francese sì in francese un film l'ho provato a vederlo cioè io Dark in italiano non ce l'ho neanche provato perché ti cali proprio nel contesto sentendo il tedesco questa linguarcigna no no è vero secondo me cambia totalmente comunque comunque non vogliamo divagare però la prima di Lost l'ho vista in italiano e anche tu te l'ho vista in italiano perché è rewatch ma io ho un rewatch l'ho fatto in originale in realtà tra l'altro era quello che avevi fatto tu su Twitch che avevi fatto il watch together ha detto ne approfitto ma sì vediamola in originale anche perché io l'ho rivista pochi mesi prima poi è arrivato l'annuncio del watch together vabbè non la riguardiamo ancora poi io sono una persona che tendenzialmente le serie le riguarda a distanza di tanto tempo però con Lost è stato un piacere io Lost arrivavo alla nuova puntata la vedevo una volta la vedevo una seconda e forse anche una terza addirittura sì aspettando quella dopo ma perché poi ho cominciato a frequentare i forum e si spulciavano gli episodi fin nella più piccola inquadratura forse anche con un lavoro di sovranalisi eccessivo ma a volte a volte siamo stati ripagati perché poi gli autori i forum li guardavano quindi a volte ti davano il materiale per tiè altre volte no però anche quella è stata un'esperienza e poi forse da lì che è nato tutto il disastro adesso delle serie che vengono overanalizzate anche quando sono serie banali abbastanza scritte potrebbe darsi ma anche per il film visto che lo fanno anche per il film c'è questa l'amendenza sì però quei film è peggio perché le analisi le fanno prima in base alle citazioni ai riferimenti produttivi diciamo che l'host si proponeva per un lavoro di quel tipo in maniera plateale plateale sì altre cose magari no e quindi veramente ci sono rimasto legato affezionato e la maledizione che dopo l'host è difficile trovare qualcosa al pari io sono in questa condizione con Breaking Bad capisco cioè io dopo Breaking Bad faccio fatica a vedere serie televisive ma infatti secondo me Breaking Bad è un altro punto di snodo di svolta adesso l'host forse mi sto portando avanti su alcuni discorsi no ma fai pure non tanti se lo ricordano ma il 2004 è stato veramente un anno di svolta incredibile cioè oltre a Lost c'era Desperate Housewives 24 cioè arrivarono un po' di serie che fecero capire che la tv poteva offrire delle storie delle modalità di racconto paragonabili al cinema ti dico anche Battles of Galactica sì concordo so che adesso sembra strano perché lo streaming impera ma all'epoca addirittura gli attori cinematografici che passavano alle serie tv erano visti come a fine carriera sì sì questo lo infatti quando Matthew McConaughey ha fatto anche lui una serie perché c'è stato un momento dove veramente andare a fare le serie televisive era come era il cimitero dei dinosauri poi da Lost in avanti proprio anche a livello registico se si vede la prima puntata che all'epoca era la prima puntata più costosa della storia delle serie tv adesso credo sia stata superata con una roba tipo Game of Thrones però all'epoca vedevi questo incidente aereo e rimanevi stupito poi post 11 settembre diciamo che faccia anche ora più aspetto abbastanza e quindi da lì c'è stato proprio tutto un percorso tutta una svolta Breaking Bad secondo me è un'altra svolta ancora e arriviamo alla contemporaneità prima o poi faremo una puntata se vuoi ti riospitiamo una puntata su Breaking Bad lì però non ci sarà problema nello spazio perché l'ho visto tutto anzi me lo riguardo una volta buona che faccio un rewatch anch'io quindi tu non riesci a vedere nient'altro io riesco a vedere altre cose però inconsciamente le metto sempre in prospettiva cioè quando mi sento dire dagli appassionati dell'attacco dei giganti che è una serie anime manga no dei colpi di scena incredibili sta roba io alzo la mano scusate ma ci ricordiamo di Lost cioè un attimino e allora moderiamo che poi non vuol dire che nel frattempo non siano uscite cose anche migliori ci mancherebbe però è il primo amore la prima serie non si scusa no io faccio ogni tanto ho provato però tipo la casa di papè l'ho provata guarda ma quella non è bella di base no però però in dubbio cioè visto che Lost basa molto del suo impianto sul colpo di scena e cambia genere di stagione in stagione tu arrivi alla fine che tutti i colpi di scena possibili li hai visti no raga io lo vedo la puntata posso? mi lascio da soli io te l'ho detto tu hai visto tutto hai visto Lost mi sono pentito mi sono pentito di interferirmi in questo ho citato Dark non so se l'avete vista io sì no ma è una stagione di Lost presa e fatta serie ah certo sì poi l'ultima stagione ha dei difetti Westworld l'hai vista? no quella no ok la prima stagione merita tantissimo poi secondo me è sprofondata ma la prima stagione ha il vantaggio che si chiude in maniera soddisfacente e io facevo la rubrica su YouTube ho indovinato tutto tutto sulla base di Lost perché pensavo alla Lost c'è un gioco temporale che non svelo ma io ho cominciato a stare attento ho detto sarà come sarebbe una gran figata se ecco infatti anche a me è capitato un po' di volte di indovinare dei colpi di scena anche bizzarri ma tipo Coco ad esempio un film che non c'entra nulla ah vabbè ma quella è facile quella del chi è vero vabbè ma però ci sono ci sono questi colpi di scena un po' stereotipati che si rivedono un po' in varie storie sì 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 io a questo punto però entrerei nello spoiler nel vivo purtroppo io non cremo contro i miei interessi ma guarda secondo me cioè è talmente sono appunto sei stagioni le prime tre da 24 puntate ciascuna poi la quarta ci fu lo sciopro degli sceneggiatori quindi calano a 17 la quinta e la sesta ne hanno di meno però sono tante puntate c'è talmente tanta roba che anche se senti dei dettagli non succede niente va bene no ti rovini qualcosa avrai un grande casino in testa probabilmente esatto perché senza seguirla sentirei delle cose ma no ma io tra l'altro io l'ho vista cioè non mi ricordo fino a quale stagione ho visto io ho visto a un certo punto che loro io mi ricordo sta scena perché loro erano dentro la boscaglia che stavano iniziando ad andare e avevano trovato che probabilmente viveva qualcuno ok ok cioè è il terzo quello l'episodio no ce ne vuole ce ne vuole siamo a metà prima stagione vero quindi io ma io con l'ordine temporale di questi dettagli faccio sempre casino no io le le prime due le so quasi a memoria a furia di rewatch le altre ce le ho ma un po' più vaghe ma le prime due sono secondo me siamo a 15-16 a livello di episodio controlleremo ok controlleremo va bene sei arrivato più o meno lì tu io più o meno sono arrivato là da quello che mi ricordo oh raga non hai visto nulla così che sono passati un po' di anni però quindi potrei anche sbagliarmi però mi sembra di essere arrivato là normale possiamo iniziare parlando di questo quarto episodio oh esatto guarda di questo quarto episodio che mi avete decantato così che mette allora devo dire cosa succede beh o perché me ne sono innamorato perché te ne sei innamorato siamo più emotivi noi esatto innanzitutto una cosa di cui non abbiamo ancora parlato sono i personaggi io credo che raramente mi sia capitato di vedere una serie in cui tutti i personaggi alla fine mi piacciono tutti infatti ogni tanto mi chiedono gli sticker su instagram ma quale personaggio ci sta sulle scatole io boh ma ci sono quelli che sono scritti volutamente per farsi odiare ma anche quelli cioè mi piace odiarli non so come dire c'è veramente un cast corale gestito benissimo e la quarta puntata svela il passato di un personaggio che fino a quel momento era stato silenzioso sulla spiaggia il pelato il pelato quasi contento di essere lì tu vedevi gli altri un po' insomma un aereo è caduto sulla deserta sono tutti molto agitati lui sereno giocondo parla con un bambino gli dice che ha un segreto e alla fine della quarta puntata si scopre della prima stagione della prima stagione all'inizio quindi questa sicuro l'ho vista all'inizio si scopre che questo tizio oltretutto a un certo punto si propone come cacciatore era tipo militare no appassionato appassionato si vede che un esperto di natura va a caccia di cinghiali prima di arrivare sull'isola prima dello schianto era sulla sedia a rotelle è vero è vero me lo ricordo non camminava lì mi è partita la scimmia non è possibile e oltretutto c'è anche già dalla prima puntata sull'isola questo mostro che non ti fanno mai vedere senti solo i rumori e lui nello stesso episodio sempre il quarto vede il mostro vicino così e il mostro non gli fa niente c'è sono già dentro sono dentro e quindi io ho finito la visione di quella puntata e ho pensato no la devo vedere tutta la devo vedere tutta per forza per forza e l'ho vista tutta più volte a me quella puntata non è mai rimasta così impressa come a te però comunque ne riconosco assolutamente il valore a livello di scrittura in generale Lost tu parlavi prima della maledizione sui colpi di scena a me ha lasciato la maledizione dei personaggi ah sì sì perché ormai io non riesco a vedere serie dove ci sono tre quarti dei personaggi che sono inutili che servono lì un po' a muovere i fili della trama e poi ok magari sono anche belle le cose che accadono però con il personaggio non riesco a empatizzarci non si sa mai niente di importante su di lui sono d'accordissimo io ti dico che pur avendolo visto tre miliardi di volte quel finale se me lo metti adesso su youtube mi vengono i brividi non so perché perché c'è ah non abbiamo detto questa serie aveva già lavorato ad Alias mi sembra ma qui Michael Giacchino a cui adesso ad Hollywood affidano qualsiasi film è iniziato a fare la sua bella colonna sonora bastarda che ti fa piangere come una merda ma infatti Lost è una delle pochissime serie tv di cui ricordo la colonna sonora io ho una pessima memoria per le colonne sonore ma Lost è incisa nel cervello ma è che fa la canticchia ma ce ne sono tante quasi ogni personaggio ha un suo tema non me la ricordo non me la ricordo ecco tutti i temi singoli non li ricordo bene ma sono tutti memorabili quelli diciamo principali d'ambientazione diciamo che c'è la colonna sonora adesso devi piangere bastardo ogni tanto fanno sentire che poi è quello che ha fatto la colonna sonora di app quindi voglio dire ci siamo capiti quindi sì quello è il momento X per me di innamoramento totale infatti anche che adesso mi dice ma voglio iniziarla scusa in questa quarta puntata succede che c'è il mostro no il mostro c'era la prima il mostro c'era la prima questa quarta puntata si vede lui che era in segnale si vede allora ogni puntata è strutturata in parte sull'isola in parte flashback questo mi ricordo in quell'episodio lui inizia finalmente interagire con gli altri dice andrò nella foresta a cacciare cinghiali per voi per una serie di eventi si trova da solo e inizia a muoversi qualcosa nella boscaglia gli alberi vengono sollevati e tu capisci che è il mostro ma tu è l'inquadratura in soggettiva della creatura che si avvicina a lui gli arriva vicino sbam taglio scena tutti pensano che sia morto perché hanno detto è rimasto da solo e invece arriva col cinghiale bello vivo ma quindi il mostro era cinghiale no 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 c'è un naufrago che gli chiede ma quindi cosa è successo niente niente tutto normale ho visto l'isola negli occhi e quello che ho visto è stato bellissimo vero e mentre ti dice questa cosa flashback e scopri che era sulla sede in quel momento perché tutto il flashback è scritto in modo tale da non fartelo capire cioè lui è seduto alla scrivania in tutte le sequenze del flashback è sempre seduto nella puntata sì e in ufficio solo alla fine è sul letto che lui ti fa vedere che cioè lui era sull'aereo perché voleva intraprendere questo viaggio aborigine in Australia andare lì con i nativi e tu vedi nel flashback che telefona quella che è palesemente una escort telefonica quindi anche uno che non sta troppo bene in quel momento e le dice ho preso un biglietto anche per te e lei le dice ma tu non puoi fare una roba simile ma non capisci perché c'è il capo a lavoro che lo sfotte lo prende in giro e dice ma tu vuoi andare a fare la roba in Australia alla fine ultima inquadratura del flashback l'ha detto il tour operator che gli dice no non la prendiamo si sposta all'inquadratura e c'è qui sulla sedia a rotelle che gli dice non ditemi cosa non posso fare frase che è diventata celebre del personaggio e sto qui sull'isola ti fanno rivedere la prima volta in cui lo vedevi nella prima puntata che era steso a terra e muoveva il piedino sì lo muoveva perché non camminava prima e quindi fin lì l'avevi visto felice perché camminava che tra l'altro io ricordo ricordo che quando vedi quella scena del piedino nella prima puntata pensavo boh avrà perso la scarpa e quindi poi alla fine si scopre come sì 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 ecco questa è un'altra cosa che dobbiamo sfatare poi arriverai al finale immagino ovvio ovvio però uno dei miti metropolitani su Lost è che non rispondono a nulla palle in che senso che non rispondono a nulla se tu ne parli su internet ti dicono ah sì ma alla fine non risponderò a nessun mistero che non è vero non è svelato nessun arcano e invece non è vero il 97% delle cose non ha risposta ma non c'è mai e dico mai un personaggio che si mette lì davanti alla lavagna e ti dice questo è per questo non c'è mai uno spiegone mai ed è anche per questo che è una serie che va vista tutta devi arrivarci tu ma la ma i vari diciamo le varie spiegazioni sono diluite nel ovvio sì 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 cioè se vuoi io ti posso spiegare perché questo cammina non so se poi vuoi godertelo ma c'è solo che la spiegazione arriva oltretutto in una puntata che sembra abbastanza non dico filler ma un po' di passaggio su Rose Bernard no sì sì c'è lì un personaggio che poi non vedrai mai più che dice una cosa fondamentale che è la risposta e quindi se tu ti perdi che la puntata si frega sì sì e poi c'è anche l'altro mistero perché dopo averti spiegato che sto qui sulla sedia a rotelle ti viene la domanda ma perché era sulla sedia a rotelle perché in altri flashback successivi lo vedi normale ah ho capito e quindi c'è anche il mistero no mi ricordo che lui ma in realtà lui quando prende no no quando prende l'aereo però no 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 quando prende l'aereo è già offeso diciamo così è già nella sedia a rotelle però ti mostrano tanti flashback dove lui cammina e quindi dici com'è finito sulla sedia e anche lì la risposta è una roba una di quelle bastardate ma ma cioè veramente che non ci puoi credere quando succede che poi è la summa tu l'aspetti tu l'aspetti quando è che te lo svelano forse addirittura nella quinta nella quinta stagione secondo me se non è nella quinta è nel finale finale della quarta quarta sì quarta o quinta tu ormai già non sei neanche più a chiedertelo infatti quando arriva è la miseria la miseria ma che poi perché poi la bellezza di questo John Locke il personaggio l'abbiamo ancora fatto il nome John Locke prima di arrivare sull'isola uno sfigato clamoroso e lì invece diventa infatti quel modo in cui perde le gambe è la summa semplicemente di una serie di sfighe è proprio l'incarnazione umana della sfiga e poi è sull'isola che diciamo rinasce tra l'altro lui è molto pappa e ciccia col medico vero? no no sì c'è il il tuo tematico diciamo diciamo che sono più rivali cioè molto spesso si troveranno contro più che assieme perché mi ricordo che c'erano sempre i pronti c'è la contrapposizione uomo di scienza che è il dottore lui che è uomo di fede perché giustamente una volta che ricomincia a camminare comincia a credere con una propensione maggiore al metafisico e ha le energie e invece quell'altro no quell'altro è molto razionale sì 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 comunque una piccola curiosità prima avevamo accennato a questo questa escursione aborigina il quello che in italiana in originale era roundabout walkabout walkabout ah quindi tu vai a puntare sull'adattamento vedi perché non devi vedere le doppiate le cose no ma questo non lo sai allora è per spiegare il titolo del post della puntata giro in giro con Matioschi allora appunto il personaggio deve fare questa esperienza sempre John Locke sempre John Locke e in originale questa esperienza è sempre chiamata walkabout che evidentemente è proprio un termine che specifica questo tipo di viaggio nella prima stagione in italiano non utilizzano il termine walkabout ma dicono viaggio in Australia per vedere cioè si dilungano diventano descrittivi a un certo punto credo terza o quarta stagione diventa walkabout se tu non lo sai dovevo fare un walkabout anche in italiano anche in italiano nell'ultima stagione diventa giro in giro no vabbè giro in giro in giro c'è un personaggio che gli chiede ma tu cosa stavi facendo in Australia cosa dovevi fare un giro in giro mamma mia che sembra come se lui volesse deviare il discorso no un giro in giro cioè come se non volesse rispondere fare il misterioso invece non le girate dice walkabout oppure un anziano che va in giro per parchi e l'altro capisce anche quindi evidentemente una parola di uso comune per determinare delle escursioni e la natura estrema e selvaggia ho dei dubbi questa cosa questo purtroppo è un po' il problema delle traduzioni un giro in giro di doppiaggio questa era una parentesi intanto abbiamo capito il post di oggi spiegare un giro in giro con Matioschi esattamente abbiamo fatto un walkabout un walkabout con Matioschi mentre invece parliamo dell'altro personaggio di Jack Shepard eccolo lì perché io in realtà ve lo chiedo di lui ma anche di quello che forse è cattivo quel biondio con i capelli lunghi ah Sawyer Sawyer allora Jack è un personaggio stranissimo a me è sempre piaciuto ma all'epoca della messa in onda in diretta era abbastanza detestato mia sorella l'ha sempre detestato e continua a detestarlo il dottore dottore quando abbiamo fatto il watch together su twitch l'hanno amato tutti quindi forse è un protagonista che è un po' più simile ai protagonisti che piacciono adesso forse perché si porta fin da subito sulle spalle una sorta di predestinazione da leader cioè tutti lo guardano e dicono il dottore è bello è carismatico quando ci sono da prendere le decisioni le prende e quindi diventa da subito leader ma lui non vuole esserlo cioè lui è un po' questa maledizione non vuole trovarsi nella situazione di dover decidere ma gliela danno sempre e non è nemmeno costretto poi si scopre alla fine quando c'è deve ricoprire un ruolo specifico nel finale eh sì e quindi si porta dietro questa situazione e quindi molto spesso non è simpatico affabile perché lui si vuole tirare un po' non si vuole prendere la responsabilità fa anche tanti errori se dobbiamo trovare un protagonista della serie è lui ha contifatti infatti io ho visto quel poco che ho visto l'avevo un po' sono tutti i personaggi principali però quello che si porta tante trame sulle spalle lui ma giusto per questo ruolo di leader perché poi è inevitabile che il capogruppo degli supersiti sia un po' più centrale in molte storie sì 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 però fa un sacco di errori di sbagli ci pensa ci ripensa cambia tantissimo di stagione in stagione cambia tantissimo e forse è un protagonista più moderno di quanto preventivato ai tempi infatti anch'io rivedendo la su Twitch perché dice questo? perché era abbastanza disprezzato cioè non odiato del tipo toglietemelo di torno che brutto personaggio che schifo ma un paragone un paragone è difficile trovarlo però è indubbio che tu hai parlato di Breaking Bad dal giorno d'oggi i protagonisti un po' più moralmente ambigui piacciono Walter White Dexter Morgan però lui diventa i rapinatori della casa di carta che dovrebbero essere in teoria un rapinator o un malvagio lì te li girano in modo tale che tifi per loro piace di più l'ambiguità beh in effetti poi c'è anche il personaggio di Sawyer che è sempre stato amato invece sì e grazie Sawyer tu mi dice cattivo è cattivo non è vero no in realtà non si capiva tanto allora facci un paragone estremo è un po' il Vegeta di Lost tu non l'hai visto? che però a me Vegeta è sempre stato sulle palle Sawyer invece no è un personaggio che si propone inizialmente vabbè innanzitutto un bell'uomo infatti mia mamma è innamorata persa questo è vero quindi questo personaggio molto affascinante ma spaccone che egoista che pensa solo a sé che va addirittura a rubare tra le borse della gente morta dopo l'incidente ma scopri un po' attraverso i flashback un altro che ha un passato orribile come tutti come tutti un po' interagendo con gli altri cambia e diventerà a sua volta in corso d'opera leader insieme a Jack in un momento di assenza di Jack non specifico perché diventerà lui il capo della comunità e sarà bravissimo oltretutto e quindi c'è un'evoluzione anche tutti cambiano l'arco di trasformazione del personaggio ci deve essere per poco in sei stagioni tu li conosci in un modo e alla fine sono completamente diversi la quinta stagione dove è lui lì il leader bellissimo è secondo me la più bella ma soprattutto soprattutto perché a parte il contesto che è particolare diciamo mettiamola così molto e mi ha sempre intrigato e poi anche vedere lui come leader altri personaggi fino a quel momento abbastanza secondari che invece hanno un ruolo importantissimo e ci sono tutte queste dinamiche anche molto umane tra lui e questi personaggi anche diciamo relazioni un po' più intime che si sviluppano e infatti poi mi è dispiaciuto quando in quel contesto sono poi andati intervenuti altre persone mi è dispiaciuto per loro ma comunque è rimasta ovviamente narrativamente molto bella non so se conosci l'aneddoto della madre vera dell'attore che fa early no early è quello più pacioccone quello che ha fatto la comparsa in a way met your mother che qua non c'è tra l'altro è lì di fianco la t perché non lo vedo eccolo è una giacchetta bianca è un personaggio importantissimo cioè lui sì sì allora l'ho detto il primo momento che mi ha fatto impazzire per me è stato quello di Locke il secondo è la prima puntata su di lui che arriva avanti a prima stagione inoltrata e ti manda in vacca totale eravamo più o meno ultime stagioni l'hanno intervistato e ha detto che sua madre quella vera quando diceva che lui sarebbe potuto morire gli rispondeva va bene tutto ma non deve morire Sawyer per dirti quindi il personaggio del figlio vabbè se muore ma Sawyer no Superman e Batman condividono il nome della madre tu e Jorge Garcia invece come dividete la madre che adora Sawyer è vero comunque no era oggettivamente per Sawyer affascinante però hai visto come siamo bravi diciamo un po' ma non tutto bravi bravi infatti ho detto quando arriverà il finale io esco il mio obiettivo il mio obiettivo è farti salire la curiosità sì sì ma me lo guarderò guarda me lo guarderò sicuro no ma poi Sawyer durante tutta la serie ha un continuo sali e scendi a volte un po' forzato nella sua caratterizzazione però poi inizia davvero ad essere interessante forse un po' nella sesta si perde secondo me lui è iniziato ad essere amato dal pubblico quando gli autori ancora non se l'aspettavano allora hanno cercato di rimandarlo un po' indietro a un certo punto poi hanno detto vabbè ragazzi è troppo figo ci è venuto fuori troppo figo non possiamo tenerlo secondo me non si è l'aspettato bisogna dare brilli a sciolta nel Watch Together la cosa assurda è che ho notato che nella prima stagione dove dovrebbe passare per lo stronzo della situazione a me stava simpaticissimo ma perché fa morire dalla vita nei primi nei piloti sì un po' un po' stronzetto lo è poi nel resto delle puntate sì fa quello scorbutico magari ruba eccetera poi però in po' d'accordo spesso passa lui dalla parte della ragione anche lì perché poi bastano poche cose per caratterizzare un personaggio ma sono cose che io non riesco più a trovare lui nelle serie di oggi lui chiama tutti gli altri per soprannomi raramente li chiama per nome tant'è vero che io l'enciclopedia l'enciclopedia di Lost c'è la raccolta di tutti i soprannomi affibbiati da Soyer agli altri e poi questa è un'altra cosa che si è persa in italiano all'esclamazione tipica che è Son of a Beach che noi effettivamente nel parlato comune non diciamo figlio di puttana come diciamo cazzo o porca io ricordo che nel doppiaggio non è che si perde nelle ultime stagioni l'ha messo perché mi ricordo che spesso l'usava però effettivamente molte volte veniva anche un po' camuffato in miseria se tu dai un personaggio un tormentone ti rimano un po' di più giochi anche col pubblico perché poi a un certo punto le esclamazioni gliele interrompono gli fanno dire sono e va e succede qualcosa non riesce a finirla beh questo e noi metti un mother chat sì bene nelle sitcom è molto tipico però è quella cura per il dettaglio mannaggia sì 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 e early ci eravamo interrotti su abbiamo detto molto in realtà solo che a un certo punto diventa importante tu parti nella prima stagione che è sembra quasi il comedy relief della serie quello che deve far ridere poi vabbè c'è il suo episodio che gli dà un po' più importanza però un po' rimane nel corso della serie questo come dire relief poi pian piano inizia a spostarsi un po' gli equilibri della serie diventa tragicomico ma infatti stavo dicendo io mi ricordo una cosa una sorta di tragicomicida un po' dramma tipo sì sì diventa diventa tragicomico no è vero nelle prime puntate è quello simpatico affabile bonaccione cioè iniziano tutti molto stereotipati poi c'è Jin e San Jin e San chi sono? la coppia coreana anche lì al giorno d'oggi trovare tanti sottotitoli in una serie non è una cosa che lascia sconvolti all'epoca farti le puntate su di loro che parlano coreano e quindi tu devi seguire i dialoghi era un'innovazione incredibile un po' un dispiacere non l'abbiano fatto con Saeed eh però sì è vero è vero Saeed parla oddio dov'è eccolo lì altro personaggio mitico ex sommato iracheno ci arriviamo allora Jin e San sono una coppia coreana che non sanno l'inglese quindi lì parlano solo tra loro lui nelle prime puntate è uno stronzo inaudito lei la povera si con quasi tutti in particolare con la moglie con la moglie molto geloso protettivo c'è la che si vuole fare il bagno le dice copriti passa uno per sbaglio che la vede lei sembra la povera vittima tu lui finisci per amarlo cioè io Jin lo amo come mai perché scopri ma perché tutti i personaggi di Lost partono in un modo e finiscono in tutt'altro modo hanno tutti un arco di trasformazione ma poi non solo non solo individualmente ma anche a livello di dinamiche tra loro arriva un momento poi alla fine li apprezzi tutti e due ma arriva un momento in cui la stronza è lei e la vittima è lui beh lei probabilmente sarà una stronza passiva e lui più attiva ma c'è di quella roba che non puoi immaginare Sawyer anche quello è un soldato iracheno cioè ricordiamoci l'11 settembre nel 2004 è già lui è venuto scusa nel 2004 loro ti propongono un personaggio positivo iracheno e che nel passato JJ sta giro ci ha visto giusto tu dici vabbè magari era un tizio affabile nel passato era un torturatore vabbè questo però posso dire non mi stupisce tu sull'isola però non voglio smontare l'entusiasmo ecco Sawyer non diventa mai leader è sempre il braccio destro del leader mettiamola così che poi leader dipende poi è un po' è il più intelligente del gruppo lui in numerose circostanze sì 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 poi vabbè anche il fatto che perché poi era detto anche alle telecomunicazioni quindi quando c'è da riparare strumenti ci mette la mano lui forse un po' come alla Dungeons & Dragons ci sono tutti con il loro ruolo dobbiamo riparare il macchinario hanno tutti il loro ruolo ma poi viene attribuito sempre uno nuovo a volte cambiano completamente è successo ad esempio con i personaggi che poi vengono introdotti nella quarta stagione che partono in una maniera poi diventano tutt'altro soprattutto con la quinta ma invece parliamo di donne ok chi vogliamo introdurre per prima è Kate esatto Kate è quella che sta con Jack Kate che Jack Sawyer il triango del Bermuda ricordo non è da tutti apprezzatissimo secondo me è il personaggio più debole in assoluto sì sì non che sia poco interessante però forse in un intento anche di farsi apprezzare delle casalinghe viene utilizzato un po' come stereotipata no non è stereotipata però è al centro di questo triangolo amoroso un po' sta con Jack un po' sta con Sawyer e l'Eterna indecisa che a un certo punto ti fa dire sì però figlia mia esatto hai rotto un po' le palle poi invece anche lei è un passato intricato è comunque una donna d'azione non è la damigella in pericolo anzi tante volte salva lei gli altri però forse quella è un po' più debole se devo trovare un personaggio un po' più gne diciamo che poi è quello che però cioè regge la baracca Kate è un po' il personaggio che forse tende a ricadere più spesso negli errori del passato sì a imparare e poi tornare indietro è questa alternanza evolve ma ha piccoli gradini fa due passi avanti e uno indietro un po' un po' invece qui non la vediamo ma il personaggio femminile migliore credo sia Juliet non c'è perché qua io vedo quella ragazza lì penso che sia quella coreana questa centrale penso che sia quella questa è Claire che è incinta perché c'è anche quest'altra piccola complicazione la è incinta mi ricordo che c'era una incinta ma non è quella coreana no 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 è un'australiana quella in mezzo è questa quella di Kate poi c'è Shannon che io ho sempre apprezzato dal punto di vista estetico quello è un altro personaggio che ti fanno odiare e poi a un certo punto pensi però dai tutto sommato poverina lei e Boone sono forse quelli per forza di cose meno esplorati poi come personaggi però anche loro che rimangono un po' di vabbè però ragazzi sono tanti Boone rimane memorabile secondo me per motivi guarda quanto siamo bravi è iconico sì è iconico Boone però non te lo ricordi a livello di personaggio è quello che poi ha fatto il vampiro in Vampire Diaries Boone no così Jan Someralder ovviamente sì 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 ok vabbè comunque sono tanti possiamo dire che è difficile avere un'esplorazione del personaggio profonda per tutti eppure eppure io ti garantisco che arrivi alla fine e conosci vita morte e miracoli invece in una serie di oggi però le serie di oggi sono anche più brevi no non c'entra sì c'entra c'entra beh io credo che Lost con un format moderno non sarebbe stata la stessa cosa in binge intendi no intendo ma adesso vanno di moda le stagioni magari ad alto budget da dieci puntate ah beh sì certo sì serie brevi no Lost non sareste riuscito a farla Lost è una di quelle stagioni che si prende tutto il tempo per raccontare una storia non va mai veloce non corre poi ci sono alcuni episodi filler diciamo che vengono ritenuti filler ma in realtà introducono concetti qualcosa però dice magari magari potete introdurre pure il più filler di tutti ma secondo me di puntate propriamente filler forse ce n'è una e basta allora non filler diciamo di che molte persone ritengono filler ah no no non sono d'accordo che secondo me perché molti pensano filler vuol dire una puntata che non porta avanti la trama in realtà potrebbe caratterizzare i personaggi esatto spesso questi filler sono puntati incentrati su un personaggio che magari ti svela robe assurde su di lui e ti crea anche un attaccamento emotivo un'empatia nei confronti del personaggio che altrimenti non avresti altra cosa che all'epoca non era consueta la morte c'è gente che muore si no vabbè ti dico nel 2022 se fai una serie e non muore nessuno il pubblico ci resta un po' male eh cioè dopo Game of Thrones non mi fai morire un protagonista ma si c'è anche Breaking Bad è diventato quasi un fetish a un certo punto eh qualche morto in corso d'opera c'è non proprio loro due magari però non ci sono così tanti personaggi dai Breaking Bad c'è un finale amaro ma quando ti interfacci con una serie corale fai già la conta dei morti eh all'epoca non era consuetudine tanto è vero che nella prima stagione uno di questi muore no e fu una roba sconvolgente per lo stesso attore perché non lo sapeva no l'ha fatto si trova il copione tu oggi muori stavano il copione puntata per puntata da un giorno all'altro inverno facevano questa cosa mi sa eh lì beh innanzitutto trattandosi di una serie vecchio modello quindi 24 puntate a stagione che ti coprivano autunno inverno e primavera eh era anche un po' normale cioè non scrivevano tutte le puntate prima di iniziare le scrivevano mentre giravano quelle già pronte certo e quindi anche un po' per forza di cose alcuni scoprivano così di punti in bianco hai finito poi lo fecero anche un po' per evitargli spoiler beh certo del finale della quarta stagione hanno girato tre o quattro scene alternative davvero? per evitare per evitare lo spoilerone porca miseria ma adesso non fanno più queste cose? beh adesso sembra che scoprire in anticipo la trama dei film sia una gran figata quindi forse non avrebbero il problema davvero? sì ci sono le persone che vogliono sapere il finale? certo c'è un intero sottobosco di community e city che puntano allo scovare le trame in anticipo per questo dicevo che oggi con i film si tende a fare le sovranalisi prima che ancora c'è un ospite delle mie dirette che Doctor Strange 2 sapeva già un mese fa la trama tutta completa non so non c'è gusto ad alcuni piace così e ci sono tanti che vogliono sapere prima di guardare il film sì sì vogliono sapere cosa c'è e poi le produzioni anche un po' se la giocano questa cosa magari dicendo cose poi se le rimangiano poi fanno finta di nulla ogni tanto esce il leak che chissà da dove vengono esatto quindi se Lost esistesse oggi probabilmente qualche spoiler lo lascerebbero circolare apposta sì 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 ma pensa che poi in quel caso si doveva scoprire per dirti chi c'era in una bara nel caso di Lost sì quindi al giorno d'oggi tu fai la foto di quello che c'è dentro tu dirai che cazzo di mistero è che c'è in una bara eppure eppure mistero che si porta avanti tu vedi una stagione intera una stagione intera è cruciale tu vedi un personaggio che si interfaccia con questa bara in un modo stranissimo e dici ma che cazzo c'è dentro dopo una stagione te lo dico io lì c'ero arrivato subito però allora stiamo iniziando a scarseggiare col tempo col tempo che peccato direi di arrivare in zona finale manca in dieci minuti giusto zona finale un quarto d'ora un quarto d'ora abbiamo riusciamo a parlarne senza rovinarlo io ce la farei dipende dalla domanda possiamo possiamo provarci io non voglio io non voglio influenzare la vostra conversazione se volete spoilerare io esco no 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 perché mi è utile averlo come ma questo è il mio ruolo io oggi sono venuto solo per questo è uno scopo utilitaristico esatto io ero pronto a rovinarlo con gli spoiler però mi è dispiaciuto Jacopino era lanciatissimo io so dovevo andare a parare o penso di saperlo il proprio il contesto finale il finale mettiamo le mani avanti ah certo non sono morti tutti dall'inizio bene questa perché l'ho detto perché se tu che hai visto qualcosina ma non tutto vai su internet e chiedi qual è il finale di Lost ti posso garantire studi scientifici svolti dalla sottoscritta il 90% delle risposte che otterresti sarebbero sono tutti morti nello schianto iniziale no raga se mi fatti di così e non è vero ma io giuro vedendo la serie non ho mai capito da dove l'hanno evita ma anche mia madre anche mia madre mi diceva guarda Lost mentre la guardavo a un certo punto parlava ti aspoierai eh ma poi muoiono tutti si scopre che il purgatorio no e io ero lì ok vediamo sto finale arrivato al finale ho detto no però prendiamo in esempio questa cosa cioè se mi dicessero una cosa del genere io l'ho puntata no e infatti tanti non la guardano per quello tanti non la guardano per quello mi stupisco di come una persona possa voler sapere la trama a priori cioè se mi dicesse una cosa del genere perché io leggo la trama e leggo una cosa del genere io non guardo io ho cercato di darmi tante spiegazioni anche nella tesi di laurea c'è un capitolo tutto sul finale e sul modo con cui è stato recepito e non siamo ancora grazie a una conclusione io ho raccolto i commenti subito successivi alla messa in onda dei forum italiani e nessuno aveva capito questa minchia ci avevano capito tutti bene la verità come era finita poi dopo qualche giorno qualcuno inizia a fare la domanda ma non è che e io il giorno dopo in università già avrei dovuto capire la gravità della situazione perché mi vedo arrivare una mia compagna di corso hai visto il finale sì sì mi è piaciuto e a me non tanto erano tutti morti dall'inizio io no non erano tutti morti dall'inizio per questo questo e quell'altro motivo lei mi guarda no erano tutti morti dall'inizio va bene ciao ma che dici c'è una separazione così netta di recezione del significato credo che avvenga perché io prima ti ho detto che non c'è mai uno spiegone nell'ultima puntata c'è lo spiegone c'è l'unico spiegone c'è un personaggio che ti dice chiaramente quello che stai vedendo è questo e la gente non ci ha capito nulla poi la gente questo termine generico quelli che hanno pensato poi non è che voglia propormi come più intelligente di molti altri ma se voi vedete la puntata ti diciamo è chiaro capisco perfettamente a me per prima è capitato vedendo quel personaggio dire quelle cose io ripensavo a mia madre che mi diceva sono tutti morti cosa ha visto sono scaricato dai mule se devo analizzarla dal punto di vista sociologico era un po' una teoria che circolava già dall'inizio è una teoria che vedi in qualsiasi serie ormai c'è sempre la teoria quella è in coma e sta sognando tutto è tutto un sogno sono morti pure con leone il cane e il fifone era una teoria che circolava dalla prima stagione perché a un certo punto proprio Saeed dice teoricamente visto cioè vista la portata del disastro è strano che siamo sopravvissuti c'è una risposta anche per quello vabbè ma è una risposta perché in effetti l'ho pensato anch'io secondo me quando l'ho visto eh vedi un po' ti viene da pensare cioè dice vabbè ma come è possibile però dice vabbè è un film però posso dirla sa cosa riguarda la natura di queste risposte non voglio poi entrare troppo nei dettagli però il fatto è che forse la gente si aspetta delle spiegazioni troppo concrete ho capito cosa intendi dire mentre invece l'ossa è sempre stata molto quasi mistica ci sono anche il finale non ha una spiegazione veramente concreta hai ragione hai perfettamente ragione infatti c'è un'ambiguità di fondo ambiguità di fondo che un po' dà credito questa falsa credenza non solo non so se la cosa si trovi anche adesso sulle piattaforme streaming ma l'ultima puntata aveva i titoli di coda e nei titoli di coda loro l'avevano inteso come un omaggio presumo ti facevano vedere la spiaggia dove era iniziato tutto con i relitti dell'aereo e qualcuno può pensare a cazzo se mi fanno vedere sta roba sono tutti morti perché mi fanno vedere che la realtà sono tutti morti ho capito ma non è così tu hai ragione a dire che le risposte sono metafisiche perché comunque la serie cambia genere in corso d'opera e l'ultima stagione è metafisica pura che anche lì l'ultima stagione il metafisico è anche un po' gestito maluccio in certi momenti un pochino cioè nello scontro tra scienza e fede laddove fino a un certo punto c'è il totale equilibrio poi c'è lo sbilanciamento la quinta stagione è un po' più scienza la sesta è fede pura qua c'è sto guardando Rotten Tomatoes sì e c'è un calo vertiginoso sulla terza stagione e sulla sesta la terza è una delle più apprezzate quindi non ti saprei dire il motivo mentre la sesta anche io che amo Lost la considero la più debole non brutta ma la più debole ci avrei gestito in maniera un po' diversa i tempi della narrazione tutta la roba del tempio invece sono super apprezzate la seconda che pare al 100% addirittura la prima e la quinta ah e invece la quinta io sento dire da molti che è ostica no forse se non intendi bene quel tipo di fantascienza ti può mandare in confusione oddio io sono stato sempre un come dire un divoratore di quel genere specifico tra l'altro è questo che mi ha introdotto alla fantascienza 20 anni esatto ma quindi è fantascientifica questa roba questa serie cioè diventa c'è di tutto c'è di tutto è mistica fantascientifica lo so che sembra la risposta del cavolo ma c'è di tutto io non sono un esperto di fantascienza cosa si intende per fantascienza quando succedono cose che non avvennero nella realtà teoricamente cioè riconducendoci alle radici della parola dovrebbero essere opere che contengono un'evoluzione della scienza quasi impensabile ah eh solitamente in un futuro ipotetico quindi una fantasia che ha però uno sviluppo scientifico non c'è la magia alla base ma delle ragioni scientifiche per i fenomeni esattamente strani quindi ovviamente qui non si va a parare sul futuro ma c'è uno stratagemma narrativo che teoricamente rientra nell'ombrello della fantascienza e non del fantasy mentre ma già alcuni frangenti nelle stagioni precedenti ma l'ultimo in particolare punta più sul fantastico mistico sarebbe il termine giusto però ci sono cose che non puoi spiegare razionalmente ma poi è un tratto distintivo delle opere di Lindelof ho notato perché non molto tempo fa io ho visto The Leftovers ah sì certo The Leftovers è tutto così più o meno tutto tutto perché poi io iniziando a vederla The Leftovers non riuscivo a capire come dovevo prendere le cose da un punto di vista puramente simbolico e mistico o da un punto di vista anche scientifico perché provano a metterci a lui piace con l'ambiguità anche Watchmen l'hai vista? eh no che bellissima e anche lì gioca sempre su questo tema Leftovers me l'avranno consigliata in effetti The Leftovers io non ho ancora visto l'ultima stagione devi vederla perché dal punto di vista emotivo per me Lost alla decima mi devasta mi devasta nell'intimo infatti tu tu prima dicevi che non ci sono mai state serie che hanno sono riuscite a equiparare Lost diciamo tolto il discorso del primo amore per me The Leftovers non so dire se c'è quasi arrivata se c'è arrivato se addirittura l'ha superata addirittura ogni puntata un colpo allo stomaco io l'ho vista in un periodo in cui non stavo già benissimo di mio poi c'è stata un'altra mazzata ho detto la terza stagione me la tengo quando sono l'uomo più felice del mondo che almeno poi ci sono cose molto lostiane anche lì se c'è una puntata in un limbo che è la mia preferita mannaggia mannaggia l'host diciamo che è il capostipi cioè un po' come nella matematica le quattro operazioni fondamentali un pochino per le serie moderne sì poi sia in positivo che in negativo perché poi dei mostri un po' li ha creati beh in quel periodo infatti parliamo prima di chiudere parlare di qualcosa in ultimi 5 minuti qualcosa che non funziona di questa serie previsiva gli effetti speciali gli effetti gli effetti visivi fanno abbastanza schifo però ma si può soprassedere no no certo oppure si può anche capire perché di qualche anno fa vabbè ma al tempo le serie più non avevano chissà che budget non avevano il budget incredibile allora aspetta il disastro aereo ha fatto benissimo poi questo te lo dico perché c'è già nella prima puntata sull'isola ci sono degli orsi polari e quando li fanno vedere è sempre un mezzo dramma non si capisce perché utilizzano in parte un tizio dentro un costume e in parte una sigilla improponibile quindi siamo un po' lo stesso mostro ogni tanto si perché sono stati bravi nel design ma infatti a un certo punto ci hanno un po' rinunciato esatto a volte invece vabbè questo è un difetto questo è un difetto ma 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 cioè ci passi sopra tranquillamente qualcosa di più rilevante qualcosa di più io lo guardo con gli occhi dell'amore e quindi non riesce allora allora non tutte e tutte le storyline sono gestite magnificamente fino all'ultimo ci sono dei cambi in corsa palesi alcune volte per ragioni produttive però sì diciamo questa ad un certo punto due attrici si fecero beccare ubriache fradice a bordo di un'autovettura sparata a velocità notevole misteriosamente insieme insieme di Lost sì due di Lost si vede che giravano giravano alla Hawaii misteriosamente i due personaggi di quell'attrice muoiono nella stessa puntata una poi ci sono le dichiarazioni successive di una dissero in realtà era già previsto effettivamente muore in un punto in cui la sua storia ben o male chiusa l'altra palesemente no infatti hanno provato anche un po' ritirarla fuori dopo cioè l'hanno presa e l'hanno tolta quando ancora dovevano dire e oltretutto c'aveva un bel mistero sulle spalle sì che poi hanno liquidato un po' più avanti l'hanno un po' gestita male in un altro frangente un attore anche lui che interpretava un personaggio palesemente importante e addirittura gli autori hanno ammesso l'avremmo portato fino all'ultima stagione l'attore si rompe le palle di girare alla Hawaii quindi l'hanno seccato sì dopo una stagione per sei stagioni comunque sono tante quindi resistere per sei stagioni esatto ci sono un po' di cose che soprattutto adesso con una certa esperienza io vedo e capisco che qua gli hanno forzato un po' la mano però scusa ma cioè semplicemente perché l'hanno cioè come torniamo al discorso Johnny Depp eh sì cioè quel discorso lì per questione quello un po' strano però forse per questione d'immagine perché trovate allora il canale era la ABC giusto sì è di proprietà di Disney ah quindi potrebbe essere quindi forse hanno detto la serie era ancora popolarissima parliamo della seconda stagione era un successone forse si sono detti boh la tagliamo e buonanotte tagliamo la testa al toro un po' strano perché al giorno d'oggi secondo me non avrebbero fatto una mazza che comunque quella scena in cui poi vengono seccata la scena è fantastica è una scena quella scena l'ho sempre ricordata molto bene nei due rewatch che avevo fatto già al terzo rewatch quello del watch together comunque mi aveva messo su un'ansia incredibile anche pur sapendo di cosa sta succedendo perché contavo quasi secondi del è ansiogena ma infatti ripeto una secondo me doveva morirli è troppo costruito bene doveva morirli l'altra è forzata ma anche se fosse stata forzata l'altra comunque hanno avuto la fortuna che quel momento ci stava e un altro difetto è questo qui chi è? Walt il bambino ah certo ora bambino a un certo potenza infatti teoricamente il tempo della narrazione non coincida quello reale cioè la prima stagione è un mese di vita dei naufraghi sull'isola la seconda stagione è il secondo mese il problema è che per girare quel mese ci mettevano un anno e questo qui cresce ma tanto quindi trovano il modo di metterlo un po' da parte solo che anche lì anche sto bambino del cavolo c'aveva un mistero alle spalle enorme e quindi bene o male te lo spiegano soprattutto dopo l'ultima puntata c'è un contenuto extra che è un corto di 15-20 minuti con una sorta di epilogo che tra le altre cose fa luce anche su su di lui sto qui però poteva essere gestito meglio indubbiamente anche perché a un certo punto ho addirittura il pretesto narrativo per farlo tornare più grande se ci pensi c'è uno skip temporale la metto giù in questi termini me lo stavo figurando c'è proprio passa il tempo e tu non sai cosa è successo in quel tempo lì poteva volendo torna fa un cameo in un flashback poteva ridiventare importante più da grande non l'hanno mai fatto forse azzardo non è che fosse un attore bravissimo da grande ma secondo me potevano anche farlo un recasting a questo punto sì è vero però forse non ci avevano più voglia fatto sta che però anche lì tu magari adesso la vedrai sono convinto che tu la vedrai sì sì la vedrai e ti renderei conto che sto bambino cazzo ma sta roba qua mi devi dire perché perché io il perché te lo so dare ma anche lì lo devi un po' cercare uno che non sta molto attento a queste cose gli sfugge completamente devi proprio saper collegare i punti e avere ben in mente tutta la serie perché per esempio ovviamente ormai ti ricordi che hanno fatto l'ultima puntata l'hanno registrata quei ragazzi l'hanno registrata all'inizio perché loro già sapevano in realtà perché crescendo poi palesemente non era tutto previsto dall'inizio quindi qua in realtà siamo in un'altra situazione però dicevi gli davano il copione ogni volta alla puntata ovviamente lo scrivevano sì sì per la puntata ogni volta però ecco per essere una serie che a volte è stata un po' improvvisata riaggiustata in corso d'opera ne parlavamo prima tantissimi personaggi hanno dei percorsi narrativi coerenti soddisfacenti arrivi alla fine li ami e poi la mancanza che ti rimane è proprio non tanto quella di misteri ma quella del cast vorresti starli ancora con loro su quest'isola dannata assolutamente poi dimmi no l'ultima cosa perché secondo me siamo proprio purtroppo la regia ci taglia la corrente io sto facendo un corso di sceneggiatura perché poi spero di fare cose in futuro io mi sto sempre più rendendo conto quanto Lost mi abbia influenzato perché molte stilemi proprio narrativi molte anche scamotage a livello proprio temporale eccetera mi hanno sono proprio riprese da Lost non riesco quasi più a scrivere qualcosa che non abbia delle alterazioni d'accordissimo con te io ho scritto due web serie più altre che nessuno ha mai visto perché non sono neanche partite a livello produttivo ogni volta la storia iniziava in maniera semplicissima come anche qui casca un aereo su un'isola e poi diventava un intreccio un intreccio incredibile esattamente come Lost quindi ha forgiato ha forgiato voi a questo punto direi che forgerà anche a me perché la guarderò e detto ciò però e la finirai in un mese beh se è come Breaking Bad mi chiudo in casa perché perché tu adesso andrai su Disney Plus e vedrai sei stagioni ammazza fidati un mese l'hai finita un sacco di gente anzi dirai è troppo breve sarà vero amici ve lo saprò dire direi che però siamo arrivati alla fine purtroppo e quindi ringraziamo Mattia per essere stato con noi è stato interessantissimo una puntata interessantissima io ho assunto il mio ruolo in maniera egregia devo dire e quindi ci vediamo diamo appuntamento a giovedì per la nostra puntata ai Cine Forum sempre alle 15.30 e parleremo di argomenti piccanti del cinema che dovremo ancora decidere ma stay tuned ciao 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 a tutti